Puoi esercitare per tutta la vita il Ministero Sacerdotale nel grado di prendita come venere come l'odore dell'ordine di Cristo, nel servizio del popolo di Dio, sotto la quina dello Spirito Santo. Una giornata solenne, quella di sabato sera, a Taverna delle Rose, alla presenza di sacerdoti provenienti da ogni angolo della diocesi, è stato ordinato a sacerdote Antonio Diarienzo, giovane battipagliese. Dopo un lungo cammino d'apostolato ed un percorso di formazione in seminario, Don Antonio è diventato prete. La solenne ordinanza, presieduta dall'Arcivescovo Luigi Moretti, si è svolta nella parrocchia Santa Teresa del Babin Gesù. Don Antonio, da ieri è stato nominato come vicario parrocchiale di Don Fernando Lupo, storico curato della comunità del rione Taverna. Mercoledì, infine alle ore 19, nel Duomo di Salerno, verrà ordinato di agono insieme ad altri il seminarista Agostino Delia, fedele della parrocchia di Santa Teresa del Babin Gesù.